Grazie a tutti. E vi dirò un'altra cosa. Hanno fatto di tutto perché non avvenisse questo incontro. Forse perché un po' gli facciamo paura. A chi? Ai poteri forti. Ormai va di moda, lo possiamo dire così. Peggio di Giulietta e Romeo. Sì, la conclusione lì non è andata benissimo. Se devo scegliere preferisco affogare nel burro. Allora, io porto spesso Roberto Brazzale a modello di imprenditore italiano. Non solo per la passione per la cultura, non solo per gli sguardi che vanno oltre le abitudini, non solo per tutte queste cose, ma per il coraggio. Perché a volte un imprenditore, soprattutto in Italia, deve forzare un po' la mano. Perché se tutto resta com'è, ci si accontenta, diventa noioso. E nella noia non si va verso il successo, ci si accontenta. Ecco, Roberto è uno che non si accontenta. Perché ho detto soprattutto in Italia? Perché la visione che hanno altri paesi rispetto al mondo del cibo è una visione diversa. Io racconto sempre questa storia. L'ho fatto anche mentre eravamo in Pullman che andavamo verso la Moravia. Alcuni anni fa, il mondo dello champagne francese, si accorge che il mercato dello champagne stava crescendo in modo vertiginoso in alcuni territori. L'India, il Sud America, la Cina. E che cosa hanno fatto? Sono andati a parlare con questi governi e hanno detto, ma visto che c'è questo grande successo dello champagne, perché non veniamo noi, francesi, con il nostro expertise, con le nostre aziende, a impiantare dei vitigni che non si potranno chiamare champagne, ma che sono in qualche modo simili. Ma in questo modo vi garantiamo la nostra qualità. Vi garantiamo che non ci sia il French sounding, che non ci sia un imprenditore cinese, indiano o brasiliano che va a aprire e a creare una concorrenza di mercato. Il progetto ha funzionato talmente bene che questi tre mercati che ho citato, per lo champagne ogni sono mercati emergenti, sono luoghi dove le grandi aziende francesi hanno aperto dei loro vitigni, delle loro cantine, che non hanno chiamato champagne, ma dove hanno prodotto un vino interessante. E questo ha creato un meccanismo aspirazionale per cui, alla fine, quel mondo che si è avvicinato allo champagne da quelle bollicine cinesi, indiane o argentine, ha poi scelto, quando se lo poteva permettere, quando era pronto, il consumo del vero champagne. Quest'operazione è stata celebrata dal governo francese, è stato indicato come un modello, tutto il mondo ha detto, ecco, in queste cose i francesi sono sempre più bravi. C'è un signore che ha fatto una cosa simile e diciamo che quel mondo che in Francia gioisce in Italia non l'ha digerita. E quindi io sono felice di essere seduto qui vicino a Roberto Brazzale. Adesso parliamo di gran moraria di burro. Grazie, grazie. In che lingua ascoltate voi quella? Ah, è in cieco. Non è lingua misteriosa, per quello io ho detto tutte queste cose, le abbiamo sentite solo noi due, non ti preoccupare. Allora, non vorrei che ci fosse qualche interferenza di qualche... Allora, io vorrei soprattutto essere qui per trasmettere un messaggio estremamente positivo. E spero che Luca, tu abbia ricevuto questa impressione da parte della nostra esperienza imprenditoriale. Noi siamo imprenditori e gli imprenditori chi sono? Sono un po' anche degli irresponsabili qualche volta, ma sono degli entusiasti che devono combinare fattori produttivi. Il nostro obiettivo è combinare fattori produttivi, non è solo fare il formaggio buono. Uno può anche scegliere di fare il formaggio cattivo per un mercato di formaggio cattivo. Cioè, ma noi imprenditori dobbiamo mettere assieme fattori produttivi. E in ogni momento mettere assieme fattori produttivi è un'operazione che può essere migliorata, che può essere cambiata. La nostra storia è la storia di una famiglia che viene dall'altopiano di Asiago, secoli, secoli, non sappiamo nemmeno quanto. Sappiamo che a metà del Seicento il nostro antenato diretto doveva fare il formaggio perché aveva 90 pecore. Allora si faceva con le pecore il formaggio, molto poco con le bovine. Ma la storia di tutta questa sequenza di antenati è la storia di chi cerca ogni giorno di fare le cose meglio del giorno prima. E io penso che questo sia il vero significato di tradizione, tradizio, tradere, passare le cose migliori e lasciare indietro le cose peggiori. La cosa meravigliosa della vita è che a noi è capitato di vivere un momento di grandi cambiamenti, perché ci sono stati millenni di minimi cambiamenti, ma ci sono stati decenni di grandissimi cambiamenti. La mia generazione ha avuto una immensa fortuna che è stata quella di vivere, diciamo, dopo, dalla fine degli anni Ottanta in poi, il periodo di più grande apertura, pacificazione e libertà che si sia mai vissuto probabilmente nella storia, perché è coniugato anche con dei mezzi nuovi, molto più potenti, più rapidi. Il semplice fatto di mandarsi un foglio Excel dal Sud America all'Italia contenente il bilancio di un'attività è stata una rivoluzione pazzesca, perché prima, fino all'inizio degli anni Novanta, a metà degli anni Novanta, bisognava portare il cartaceo, e come si faceva ad avere il cartaceo, capite? Telefonarsi a distanza. Cioè, tutte queste cose hanno aperto il mondo e ci hanno reso possibile fare le cose in maniera completamente diversa. Non voglio però rubarti, voglio solo dire, siamo stati la generazione più fortunata. Le odierne generazioni non sono altrettanto fortunate, perché stiamo vivendo un periodo di assoluta retromarcia, di contraccolpo rispetto a quella apertura. Però noi siamo ottimisti e noi vogliamo continuare a fare ciò che siamo riusciti a realizzare grazie a questa meravigliosa apertura. La cosa più importante è che a un certo punto abbiamo cercato il luogo ideale per fare il latte per i formaggi della nostra tradizione. Aveva fatto anche il nostro nonno 60 anni prima, scegliendo le praterie tra Camisano e San Pietro in Gu, verso il Brenta, nel Veneto, e si spostavano di 50 chilometri, che erano allora come 5.000 oggi. Oppure il mio trisnonno che nel 1898, con un sacchetto di marenghi d'oro, dei risparmi di generazioni e generazioni, veramente grandi risparmi, grandi fatiche, ha comprato la fattoria giù in pianura dalla montagna. Noi abbiamo fatto una cosa simile, non abbiamo fatto nient'altro che interpretare quello che in questo momento il mondo ci metteva a disposizione. E siamo stati felicissimi perché così abbiamo potuto migliorare enormemente il nostro prodotto e offrire al consumatore, ai nostri clienti, qualcosa di nuovo, di innovativo, di migliore, di alternativo, che speriamo apprezzino. Io ne aggiungo ancora un pezzo. Perché poi questo signore è andato alla ricerca del latte migliore, ha fatto il percorso che sappiamo, ma poi nei paesi dove è andato a operare ha fatto un discreto regalo al Made in Italy. Che non esiste. Ci racconti questa storia? Sì, ma insomma è una cosa curiosa, è curioso il fatto che non ci sia sufficiente coscienza, che lo scambio è sempre bivalente. Noi siamo veneti, l'avrete capito, perché abbiamo poche doppie e le mettiamo anche dove non ci vanno per timore di sbagliare. Ma noi nel 200 avevamo uno dei nostri che andava in Mongolia, che andava in Cina. Il nostro piatto tipico a Vicenza è il baccalà alla Vicentina. Ma il baccalà cos'è? È lo stoccafisso delle isole Lofoten. È il mais, è il purè di mais di una pianta che viene sulle Ande. Dunque, capite, è meraviglioso, stupefacente che oggi noi abbiamo limitazioni nei confronti di questa apertura straordinaria che è sempre stata la storia dell'umanità. Lo scambio, il contatto, lo scambio pacifico. Dunque, quando noi abbiamo in Repubblica Ceca realizzato progressivamente questa filiera di 75 aziende agricole che ci conferiscono circa 700 mila litri di latte al giorno, abbiamo circa 500 dipendenti lì che lavorano al formaggio che poi viene in Italia per continuare la sua vita, stagionatura, confezionamento, taglio, gestione. Dunque, circa un 50-50% del valore aggiunto con una filiera che si espande al di là delle Alpi, al di qua delle Alpi. Beh, in un paese così bello, stupendo, se non lo conoscete andate a visitarlo, ma sicuramente lo conoscerete senza saperlo perché il cuore dell'impero osburgico era lì. Vienna era città cosmopolita, ma la Bohemia e la Moravia erano il vero cuore pulsante per secoli della cosiddetta Austria, l'Austria Felix, che conosciamo anche letterariamente. E lì le città erano talmente belle, la popolazione, che sono 10 milioni e mezzo, 11 milioni di abitanti, talmente fine, colta e curiosa della cultura italiana, alla gastronomia italiana, che un po' alla volta, beh, come sono nati questi negozi? Perché ti dico la sincera verità, io mi stufavo anche di stare con mio fratello a fare le riunioni dei casari che duravano sei ore, con la traduzione e tutto il resto. Le riunioni fateveli voi sul grado di acidità, che tanto sequeo in due minuti se potrei farle. E abbiamo cominciato ad aprire il primo negozio in una città, per prima di tutto è stato a Bernò, con un format, si dice, chi ha studiato dice format, un format che consiste in questo. Saria stato praticamente un casolino, un negozio di alimentari di quando eravamo bambini, dove una persona, due persone, che potevano essere il mio nonno e la mia nonna, Ciano e Maria di Asiago, che io da bambino vedevo nella loro macelleria servire tutte queste persone che venivano da fuori, anche gente che veniva perfino da Roma, da Bologna, con questa cortesia. E io volevo ripetere una cosa del genere, cioè un negozio dove ci fosse una relazione, dove ci fosse una cordialità, un contatto, il consiglio, e un'altissima qualità dei prodotti. Abbiamo aperto il primo, è diventato un problema di ordine pubblico, perché le file arrivavano fino in fondo alla fontana, 80-100 metri di fila. Allora di conseguenza abbiamo cominciato ad aprirne. E oggi siamo a 23 negozi dove vendiamo 700 generi importati dall'Italia, di tutti i tipi, biscotti, tutto quello che voi immaginate dentro un negozio di alimentari. Con 180 dipendenti ciechi, c'è solo un italiano più il direttore, formidabili a vendere i prodotti italiani. Facciamo 50.000 copie del magazine, se vuoi ti vendo anche la pubblicità, eventualmente. Più di famiglia cristiana, un altro po'. Stavi parlando delle persone che hai a lavorare con te. Io ho avuto la fortuna di conoscerne un paio. Un entusiasmo e una passione per l'Italia e l'italianità uniche. Sì, è una passione che cerchiamo anche di coltivare attraverso appunto il magazine, attraverso tutta una serie di attività, anche di scambio. L'orchestra nostra che sale su, scambi culturali. Insomma, si vive assieme come è sempre stato nella storia. 45 anni di patto di Varsavia avevano messo in congelatore una terra che per i nostri antenati era una terra di normale destinazione. I nostri vecchi d'Asiago non andavano, non venivano a Bologna. Andavano in Carinzia, in Bohemia a lavorare nelle miniere o andavano a vendere le stampe, come è il caso del grande bassanese che andava a Praga a vendere le stampe. Dunque abbiamo riattivato un canale che era sempre esistito. Ed è una cosa bellissima. E io sono qua per dirvi che il mondo è stupendo. Non è mai stato bello così. Le possibilità di contatto, di scambio, di vivere assieme, di vivere assieme bene, sempre meglio, sono infinite. L'unica limitazione è nella nostra testa. Non sono un santone, l'avrete capito, anzi. Ma sono cose che ci tengo a dire perché noi abbiamo l'abitudine invece ad avere una visione molto più chiusa, ristretta, più corporativa, più protezionista. Invece il mondo è lì che ci aspetta, è lì che ci aspetta perché noi sappiamo fare le cose molto meglio di come le sa fare chiunque altro, con tutto rispetto anche per i francesi. Ma quando si tratta di alimentazione, di un'alimentazione non sofisticata, un'alimentazione sana, buona, legata ad un territorio stupendo, nessuno ha l'eredità che abbiamo noi e l'avviamento, possiamo dire, proprio la capacità di lavoro che abbiamo noi. e ci è riconosciuta. Soltanto per dire che è stupefacente, come dicevi tu, che 180 nostri collaboratori ciechi vendano con più passione di noi i prodotti italiani. Per cui pensate che margine che c'è di innamoramento verso i nostri prodotti. Le storie da raccontare sono tante, ma ci sono anche un po' quelli che sono gli elementi fondanti di una masterclass come questa. Una masterclass si viene per assaggiare e per imparare il prodotto. Ci sono prodotti che in qualche modo non impariamo mai, perché ci sono troppe sovrastrutture, troppi stereotipi. In cima a questa classifica c'è il burro. Voi siete un pubblico esperto, appassionato, si vede, che ha voglia di assaggiare, di capire. Il mondo del burro è uno dei mondi su cui abbiamo la più incredibile confusione di informazioni che esistono nel nostro paese sulle materie prime. Talmente confusionario il modo di comunicarlo è che sia la linea che ti dice che il burro è buono, sia quella che ti dice che il burro è cattivo, sono sbagliate. Perché si parte da un presupposto sbagliato. Il nostro è un paese che almeno per la sua parte centrosettentrionale ama il burro. Il nostro è un paese dove c'è un burro pessimo. E adesso Roberto vi spiega perché. Sì, mi permetto solo di attenuare un po' il superlativo assoluto che tu giornalisticamente hai sparato ed era giusto così. Io sono qua per metterti nei guai, non per agevolarti. Buon lavoro. È chiaro. Sei in buona compagnia comunque. No, il latte è l'elemento, non si può dire un prodotto, è l'elemento naturale più complesso che esista, più straordinario che esista, più variabile che esista perché è una spugna dell'ambiente circostante, di mille cose. Ma il latte ha una sua incredibile complessità che o la rispettiamo o non la rispettiamo. Allora noi siamo abituati a fare che cosa? A prendere il latte e farne grandi formaggi. E questa è una cosa stupefacente perché gli italiani sono i più grandi produttori di formaggi in termini qualitativi che esistono al mondo. Ma nel fare i formaggi noi destiniamo il latte a quello scopo. Dopodiché cosa succede? Dall'affioramento dei formaggi grana, dal siero della lavorazione dei formaggi, addirittura dalle acque di filatura delle mozzarelle, noi recuperiamo il grasso che è disciolto. Questo grasso è nel caso dell'affioramento molto più rispettato, più naturale, però è una frazione del grasso originario del latte perché due terzi di quel grasso sono andati a finire in caldaia per fare il parmigiano reggiano, il grana padano, il grana moravia e così via. Il grasso che recuperiamo dal siero è un grasso che assomiglia molto a Odisseo quando arriva a Itaca e l'unico a riconoscerlo è il Can, perché nessuno lo riconosce, perché quel grasso, poverino, ha passato un'Odissea. Pensate a tutta la lavorazione. Addirittura dai lavaggi di filatura voi capite che sono tutti prodotti sani, ma sono prodotti che hanno perso progressivamente il loro pregio. Oltre ad essere una frazione minimale assolutamente squilibrata del grasso originario. Dunque, se voi volete fare il burro buono, voi dovete usare il latte per fare il burro, punto. Non potete prendere un derivato, un sottoprodotto di un'altra lavorazione e poi pensare di avere il burro buono. Dunque, il burro buono non può che essere il burro di centrifuga, perché è fatto con il latte. Il burro di affioramento, che è molto presente nel mercato italiano, perché facciamo tantissimo formaggio grana, circa il 50%, 40% della produzione di latte va a grana, è sicuramente migliore di quello di siero. Però stiamo già parlando di uno scalino, due scalini di diversità e di inferiorità qualitativa. Ecco perché in Italia non c'è, in circolazione, burro buono, se non pochissimi, rarissimi prodotti italiani e per lo più i prodotti esteri. Perché i prodotti esteri? Perché nel centro-nord dell'Europa sono abituati, sono burrieri, si scremano il latte da sempre, anche perché non è buono di fare gnanca e una cacciotta, figurate, loro scremano il latte, fa il burro e con il latte magro, fanno la polvere e la mandano in giro per il mondo. Dunque, noi viviamo questo grosso problema in Italia, che non abbiamo il burro buono distribuito, anche perché le panne di affioramento per lo più vanno a fare il mascarpone, vanno a fare altri prodotti. Ecco perché voi quando andate al supermercato vi prendete il burro, purché sia rettangolare e costi poco, che è un po' la filosofia dei buyer. Dunque, noi italiani siamo fra i popoli al mondo che mangiano il burro peggiore, perché siamo grandi produttori di formaggi e facciamo i burri migliori. Cosa abbiamo pensato di fare noi? Di partire cinque anni fa nell'ambito di una grande recupero di verità nei confronti del burro come il più straordinario elemento per la nostra salute e non più criminalizzato, abbiamo detto ma come si fa a parlare del burro senza farlo buono? E cominciamo a farlo buono e facciamo la Rolls Royce, non facciamo solo buono, lo facciamo superlativo. Dunque andiamo a cercarci le stalle che per, diciamo, con un metodo empirico ci danno un risultato migliore e quello lì lo burifichiamo come sappiamo fare. Adesso non è che vengo a dirvi i segreti dopo 400 anni che facciamo il burro, vengo a dirvi anche come lo facciamo. Vi fate voi il burro 400 anni e dopo ne parliamo, ovviamente. Provatelo. Ed è uscita una cosa stupefacente. Questa cosa stupefacente che è uscita abbiamo voluto chiamarla Burro Fratelli Brazzale per dedicarla non a me e ai miei fratelli ma ai nostri antenati. E una cosa curiosa, questa qui posso descrivere, posso fare una digressione letteraria rapidissima. Assolutamente. Assolutamente. Ne hai già fatta una perché hai fatto un distinguo tra pessimo e peggiore che è stato interessante dal punto di vista. Mi è andata dritta, è l'unica cosa che ho studiato. Questa signora qui che abbiamo scoperto, grazie a mia moglie, l'abbiamo scoperta a Palazzo Persico. Intanto ho detto di cominciare a far arrivare il burro da assaggiare. Eh sì, se no. Quella signora lì è... Abbiamo scoperto che esisteva a Palazzo Persico dove viveva Mariano Fortuni, eclettico, artista, tra l'Otto e il Novecento di origine spagnola. Abbiamo scoperto questo piccolo poster che nel 1899, guarda te, era stato realizzato da Mariano Fortuni per reclamizzare un burro che veniva dalla zona di Lodi, da quelle parti di Bergamo e veniva venduto a Milano. Caspita, che meraviglia! Stavo cercando di fare l'incarto e mi arriva questa meraviglia lì, segno del destino anche quello, no? Ma abbiamo scoperto solo recentemente chi è. Questa qui è la silhouette tratta dalla fotografia, niente po' di meno che della principessa zina di Ohenlohe, la moglie di Federico di Ohenlohe, principi germanici, proprietaria del castello di Duino, quello delle elegie duinesi, ed era amica di D'Annunzio. C'è un bellissimo carteggio fra lei e D'Annunzio, stupendo, che merita di essere letto. D'Annunzio terminava sempre le sue lettere con tener a mente. Non c'era stato niente tra di loro, forse è stata l'unica donna con la quale D'Annunzio non ha avuto intrecci se non di amicizia. Ed è bellissimo che si incontrino anche queste nel nostro cammino che si incontrino queste perle, no? Ed è diventata l'icona di questo burro, in pratica, di questo burro che vogliamo offrirvi come superlativo, il massimo che possiamo fare. Adesso lasciamo completare il servizio e poi guidiamoli in questa degustazione. Ti faccio anche lavorare. Una cosa che stare bene e tenere a mente, noi siamo anche abbastanza... Allora, Dottor Ferrua ci ha definiti azienda combattente, no? Sì, è vero, perché se la vita non è combattimento è un ospizio, no? Per quello c'è tempo. nella migliore delle ipotesi. Dunque, ci piace anche, vorrei dire che il motto nostro, visti i vizi e i tempi che corrono, potrebbe essere credere, disobbedire e combattere, probabilmente, no? A noi piace, però, anche essere onesti sul mercato e sfatare i falsi miti, perché il nostro è un mercato, credetemi, pieno di falsi miti, pieno di interferenze, di storture, di incrostazioni, di istituzionalizzazioni. Una di queste sono le etichette nutrizionali. Le etichette nutrizionali sono una bestialità colossale, perché portano chiunque a immaginare che il prodotto di cui trattasi sia composto di quei cinque elementi che sono esposti in etichetta, cioè grassi, di cui saturi, insaturi, lipidi, sale, acqua, così via. Ma questo è folle, è folle, a parte il fatto che non servono a nulla, perché nessuno di voi è in grado, senza 50.000 analisi, un nutrizionista al fianco e così via, di usare in qualsivoglia modo quei dati lì. Non servono a nulla. Servono soltanto alle industrie per fare la guerra dello zero virgola. Servono solo a quello. Ma in realtà vi distorcono dalla verità. E qual è la verità? Che un prodotto come il burro ha migliaia di microcomponenti. Ha decine e decine di macrocomponenti, che sono i trigliceridi, gli acidi grassi, di tutti i tipi. E la composizione del burro è talmente articolata e complessa che un burro non potrà mai essere uguale a un altro. Questo chiaramente a noi deriva molto più facilmente per il fatto di avere in casa da un anno e mezzo l'Università Statale di Milano che ha voluto aprire un centro, uno science center dentro nella nostra azienda con il quale facciamo di quelle esplorazioni fantastiche di carattere scientifico impossibile in qualsiasi ufficio qualità, laboratorio qualità di un'azienda. E mi piacerebbe mostrarvi qual è la vera radiografia di un burro. È incredibile. È incredibile perché è come una galassia, è come è la natura ed è costantemente variabile. Dunque, quando vi avvicinate a questi prodotti ricordatevi questo, che sono prodotti di una complessità sconosciuta, molto sconosciuto. E se posso anche azzardare una cosa, il latte è il prodotto che la natura, è l'elemento che la natura fa realizzare alla mamma per il piccolo. Noi nemmeno sappiamo quali siano i congegni che la natura ha messo dentro lì. Tanto per dirvene uno noto, tra il latte del pomeriggio, che noi mungiamo il pomeriggio, la mungitura del pomeriggio e quello della mattina, c'è una differenza notevole di melatonina. Perché? Perché il latte del pomeriggio deve preparare il vitello al sonno. Solo per dirvene una, da qui provate ad immaginarne centinaia, se non migliaia, di questi fantastici congegni che la natura ha messo dentro questo elemento e di cui noi non sappiamo ancora nulla. Gli scienziati, se sono onesti, vi diranno che la gran parte di ciò che è il latte non si conosce. Ma è sicuramente buono. Da dove cominciamo? Da dove cominciamo? Io purtroppo sono una persona troppo indulgente per guidarvi in una. Però io direi di cominciare subito con il classico. che è il Rita, tu che sei il classico, qual è il numero non vorrei che si partisse dal salato. Comunque, Rita, vuoi spiegare tu? Liberate Giovanni. Il classico significa burro senza che sia stato aromatizzato con altri elementi. qui sul piatto abbiamo una selezione di cinque burri. Partiamo da quello neutro che è quello diciamo in purezza ed è cerco di spiegarvelo è vicino a quello verde che è quello all'erba cipollina che però assaggeremo per ultimo. Il più chiaro di tutti? Il più bianco di tutti? Sì, il più bianco di tutti. Non quello che sta a destra che è un po' scuretto ma quello che sta alla sinistra. Quindi quello è il burro neutro, burro puro. Questo è un burro come ha detto mio papà prima un burro di centrifuga all'84% di grasso che non è facile da raggiungere da tenere e mantenere l'84% di grasso. Immaginate che tutto il grasso originario del latte tutto finisce in questo burro tutto senza nessuna perdita di nessun tipo. Pensate alla ricchezza che abbiamo straordinaria. Questo burro noi spesso non è che ci arrivi perché decidi con un piano tecnologico di arrivare lì è la natura che ce lo dà col metodo empirico proviamo i latti diversi e otteniamo e rivediamo i risultati applichiamo delle tecniche diverse di maturazione di burificazione e ci arrivano questi risultati ma qui è tutta natura noi possiamo solo non disturbarla e questa natura significa anche che la spalmabilità di questo burro è straordinaria fuori dal frigo immediatamente potete la prova del 9 sapete è quella della famosa fetta biscottata che ogni volta si rompe ecco con questo vi garantisco che anche le fette biscottate dei discount più a basso costo non integrali reggono ma cosa significa che ha una struttura questo burro che si presta in modo particolare per i prodotti lievitati da forno cioè voi sapete che i lievitati da forno ma in generale i prodotti dolciari i croissant i panettoni i pandori non ne parliamo hanno dentro una quantità grandissima di burro il burro è uno dei tre elementi essenziali è forse il più importante ecco le caratteristiche che questo burro esprime nella produzione ci sono state con una sorpresa sbalorditiva ci sono state diciamo fatte conoscere nell'ultimo anno e mezzo dai più grandi pasticceri italiani che hanno scoperto questo burro e hanno scoperto che lavora in maniera inarrivabile per qualsiasi altro concorrente per il momento e dunque abbiamo l'onore di essere fornitori oggi di grandissimi pasticceri posso fare il nome di Agnello Di Caprio posso fare il nome di tutti i grandi amici che poi sapete che i panettoni migliori oggi non si fanno più a Milano si fanno a Caserta a Napoli ecco buona parte buona parte e questo è un risultato inintenzionale che la natura ci ha offerto e che con la sperimentazione si scopre Giovanni continua adesso sì allora partiti dal burro neutro in purezza possiamo girare in senso orario quindi non andando verso il burro all'erba cipollina verde ma quindi continuando verso l'altro burro bianco questo qua è un burro salato con un sale dolce sale marino dolce è una salatura comunque delicata in cui si cercherà di non fare in modo che il sale prevalichi anche sulla dolcezza del burro si vuole comunque fare in modo che il burro sia il protagonista dell'assaggio e che quindi il sale appunto non domini in bocca naturalmente un burro così può andare benissimo sia mangiato a crudo sui crostini ma anche per la cucina poi soprattutto anche gli altri burri aromatizzati vedremo che possono essere caratterizzati per possono essere specifici per certi tipi di preparazioni e comunque credo che possiate confermare che anche in un burro salato comunque è il burro che è il protagonista e non il sale quindi la dolcezza e le caratteristiche del burro si riescono a trasmettere a pieno anche con questa leggera salatura che un tempo aiutava anche la conservazione voi sapete che con i frigoriferi fra la fine dell'ottocento e inizio del novecento è cambiato un po' il mondo e un episodio bello è che la nostra famiglia avendo già un burificio industriale negli anni venti del novecento serviva tutti gli ospedali della zona che portavano nelle celle frigorifere che erano le uniche dell'alto vicentino portavano i prodotti a conservare le medicine e tutto il resto insomma ma anche questi frigoriferi hanno cambiato il mondo del mercato perché pensate solo alla Nuova Zelanda la Nuova Zelanda oggi produce il doppio del latte dell'Italia e può trasportare è diventata significativa nel momento in cui ha potuto cominciare a trasportare anche il burro oltre che la lana che ovviamente non deperisce procedendo sempre in senso orario il burro successivo è un burro salato affumicato quindi con sale affumicato se l'assaggiate infatti sentite che la prima percezione è quella del sale e arriva poi anche la bocca si riempie di affumicato e questo è dovuto appunto al fatto che è un sale affumicato non è il burro che viene direttamente affumicato ma la fumicatura avviene attraverso il sale per cui si percepisce sia la nota salata che la nota affumicata un burro così può andare bene ad esempio per la carne oltre sempre a essere assaggiato a crudo o col crostino come stiamo facendo noi adesso ma ad esempio per la preparazione ad esempio della carne per un barbecue per anche per quindi sì 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 esatto continuando sempre in senso orario il burro successivo è un burro salato c'è sempre la base di sale e col finocchietto selvatico il finocchietto non è un aroma artificiale o manse proprio è direttamente il finocchietto un finocchietto disidratato che viene semplicemente tritato e che conferisce poi al burro questo aroma sì proprio l'aroma deciso del finocchietto qui andiamo già su dei sapori in bocca più più forti più più decisi questo tipo di burro può andare sempre bene a crudo sul crostino sulla carne molto bene potrebbe essere anche molto molto adatto ad esempio per un pesce per un pesce scatoletta di tonno per esempio scatoletta di tonno lo sgombro sì in conclusione invece quindi sempre procedendo in senso orario l'ultimo burro è il burro salato all'erba cipollina sfruttando anche qua nessun aroma artificiale nessun additivo particolare è semplicemente erba cipollina che riesce a dare anche qua un sapore comunque deciso in bocca e anche questo è un burro che si presta molto bene sempre per la carne oltre che crudo col crostino molto amato dai tedeschi questo lavoriamo molto in Germania con questo burro però il nostro obiettivo finale è comunque quello di non perdere mai l'attenzione sul burro cioè comunque il burro vuole essere sempre protagonista in tutti i vari tipi di di aromatizzazioni e di di salature c'erano domande come si fa a mantenere il colore brillante in una preparazione colore ripete si conserve se vuole fare la domanda al microfono non è così stupida quindi no no una curiosità come si fa a mantenere il colore brillante dell'erba dell'erba cipollina del finocchietto che in genere nelle preparazioni diventano poi marroncine quindi in un prodotto che si conserva per quanto tempo circa il burro due o tre mesi esatto per cui era giusto una curiosità non c'è nessun segreto particolare è la natura anche qua noi non facciamo nessuna nessun intervento particolare né sull'erba cipollina né sul burro semplicemente l'erba cipollina da sola riesce a a dare questo colore forte e anche il finocchietto stesso che lascia questo suo colore tipico non ha nessun trattamento particolare quindi noi non facciamo assolutamente nulla di particolare è proprio la natura che di per sé ha fatto in modo che l'erba cipollina potesse sprigionare questo colore e questo aroma sì in generale noi abbiamo rifiutato qualsiasi idea di elaborare il burro anche per i professionisti allora quando abbiamo scoperto di avere in mano questo tesoro fantastico abbiamo proprio costruito uno stabilimento solo per questo burri speciali che attualmente è di cui responsabile Giovanni e però abbiamo deciso che avremmo continuato a lavorare questo burro in natura senza frazionarlo senza lavorarlo in nessun modo perché siamo non per chissà quale forma di purismo ma perché siamo convinti che significhi semplicemente declassarlo cioè che il risultato massimo si ottenga col burro in natura così naturale benissimo allora messaggio che vogliamo mandare è questo a noi piacerebbe che e qui posso dire una cosa anche un pochino un pochino più pepata allora sarebbe bello che noi italiani ritornassimo un po' indietro perché fino agli anni sessanta non era consentito definire burro lo zangolato derivante dalle panne di siero poi per un interesse ovviamente corporativo è stato esteso il termine burro anche alle panne di siero a noi piacerebbe che si ritornasse quando si parla di informazione al consumatore ma quella vera quella vera si ritornasse a dire bene il burro è quello che si ottiene dal latte attraverso la centrifugazione sul affioramento possiamo discutere nel senso che è un processo ma che comunque è un processo che ci dà luogo a panne che sono una cosa diversa anche come composizione rispetto alla panna di centrifuga dunque che ci fosse la possibilità di ritornare di obbligare noi burifici a indicare con precisione che tipo di burro stiamo vendendo qual è la provenienza delle panne questo sarebbe di grande beneficio soprattutto per noi perché ci restituirebbe la possibilità di distinguere fra un burro buono e un burro meno buono sono tutti sani non vi succede niente vi nutrono tutti quanti però capite che differenza enorme può esserci fra una qualità e l'altra dunque per come auspicio questo mi permetto di farlo nel frattempo noi cerchiamo di informare nel modo più preciso attraverso una diciamo un'informazione positiva domande chi fa il burro per centrifuga per centrifugazione lo scrive sulla confezione quindi quando non lo trovi scritto non è per centrifugazione questa è una fortuna piccola fortuna per i consumatori diciamo del supermercato questa è verità normalmente chi fa il burro di centrifuga scrive di centrifuga sarebbe anche corretto però che la parola burro fosse riservata soltanto al prodotto derivante dal latte e non dal siero va bene che il siero deriva dal latte però sono cose diverse ma la cosa anche diciamo che andrebbe sottolineata se volete qualche numero oggi si stima che è la maggioranza del burro venduto in Italia per i canali tradizionali diciamo del retail sia di siero o eventualmente anche risultante dalla filatura delle mozzarelle per cui capite in che situazione ci troviamo in cui una parola che dovrebbe significare qualcosa di nobile di prestigioso la parte più pregevole del latte è finita ad identificare un qualcosa di indistinto che indifferentemente può essere fatto con il centrifuga o con il 90% di siero o anche di filatura senza che ci sia nessuna possibilità di distinguere per voi consumatori una parola sul Grammoravia Grammoravia è quel formaggio che noi realizziamo in questa filiera che abbiamo creato in Repubblica Ceca in Moravia una filiera di circa 25.000 capi circa 75 aziende agricole 100.000 ettari perché a un certo punto vent'anni fa abbiamo pensato di andare a cercare un luogo dove veramente si potesse fare un latte di altissima qualità per i nostri prodotti con standard anche di sostenibilità che già si capiva sarebbero venuti all'epoca nessuno parlava di sostenibilità hanno cominciato a parlarne 10-15 anni dopo e oggi è una mania anche eccessiva e abbiamo creato questa filiera dove nel luogo secondo noi ideale al di là delle Alpi fra Vienna e Praga questa regione stupenda e questo ci ha permesso partendo da un fornitore arrivare a 75 di arrivare a 300.000 forme di produzione di questo Grammoravia che giù potete provare e cos'è questo è un esempio di come gli italiani potrebbero espandere la loro attività e la loro capacità di trasformazione solo se riuscissero ad avere più materia prima noi abbiamo un territorio che è stupendo ma è limitatissimo tant'è che siamo deficitari in tutto per il latte siamo deficitari di circa il 38% siamo autosufficienti se non esportiamo ma se non esportiamo ci impoveriamo dunque ci manca il 38% e se voi immaginate che gli italiani sono lo 0,7% della popolazione mondiale ma gli italiani sono sicuramente in termini operativi di intelligenza e di braccia la popolazione più straordinaria al mondo per realizzare formaggi e pasta e pizza sono il veicolo più incredibile che possa immaginarsi per diffondere nel mondo i nostri prodotti capite che l'Italia potrebbe diventare una porta aerei di trasformazione di materie prime agricole di alto livello e moltiplicare n volte la propria produzione il reddito la ricchezza dei cittadini la conoscenza nel mondo noi negli anni nel 2000 la nostra famiglia esportava zero avevamo 150 dipendenti facevamo solo prodotti di OP italiani oggi dopo 20 anni abbiamo da 150 500 dipendenti in Italia altri 500 nel mondo e esportiamo circa il 40% della nostra produzione cioè tra i 100 e i 120 milioni di euro all'anno questo semplicemente espandendoci cioè espandendo la nostra raccolta creando raccolte fuori dai confini nazionali che sono angusti che sono limitati che quelli sono e la mia domanda è ma perché siamo così autolesionisti da interpretare il concetto di Made in Italy ecco il tema che poteva uscire oggi in un modo limitativo per noi stessi noi abbiamo offerto un'occasione per immaginare il Made in Italy come qualcosa di utile alla collettività non a singole corporazioni estremamente minoritarie e qual è questo concetto un concetto che fa perno sul fatto che innanzitutto il Made in Italy non esiste perché è concettualmente impossibile da definire le catene internazionali del valore sono incredibilmente complesse e nessuno di voi riuscirebbe a realizzare un prodotto veramente Made in Italy perché comunque un po' di gas lo usa che viene dall'Algeria comunque in una stalla per esempio in una filiera di OP italiana per esempio come quella che realizzavamo noi la componente di input esteri è enorme allora spero di riuscire a darvi un'idea tempo pochissimo ma volevo proprio mandarvi questo messaggio perché queste occasioni sono rare anche di parlare in questi termini perché di solito il pensiero dominante è uno solo Made in Italy è ciò che è fatto in Italia con il latte italiano chiuso il discorso ok ma il latte italiano cosa lo fai con la soia brasiliana lo fai con il mais che viene dagli Stati Uniti lo fai con i bergamini che vengono dall'India lo fai con i trattori che vengono dalla Germania con il potassio che viene da Israele con il potremmo andare avanti all'infinito e non troviamo nessun elemento diciamo italiano andiamo in sala di mungitura abbiamo gli impianti dell'Alfa Laval le vacche sono inseminate con tori canadesi poi abbiamo i fieni che vengono fieni di medica che vengono dalla Spagna abbiamo il camion di raccolta che viene un Volvo le gomme sono Michelin il gasolio viene dalla Libia o dalla Russia non trovate un elemento italiano non lo trovate arrivate in caseificio portate il latte e chi lo riceve il latte nel nostro caseificio era un nostro collaboratore bosniaco il casaro era un serbo poi eravamo un ragazzo ganese un uomo forte che spostava sulle bacinelle il caglio che mettevamo nel latte era danese il gas che usavamo veniva dall'Algeria o dalla Russia cosa abbiamo trovato di italiano finora nel senso convenzionale nulla voi direte sì ma l'azienda agricola l'azienda agricola almeno era italiana no perché era posseduta da una finanziaria lussemburghese dunque neanche quello è una provocazione per dire che il concetto di Made in Italy è una convenzione purtroppo noi abbiamo adottato la convenzione che piace a certe corporazioni estremamente limitate estremamente minoritarie e impedisce uno sviluppo ecco siccome noi siamo combattenti come dice Luca Ferrua e quei pochi anni che viviamo qui da imprenditori ci piace viverli apertamente noi riteniamo che gli italiani possano espandere incredibilmente la loro capacità andando ad approvvigionarsi e creando filiere produttive fuori dall'Italia e i numeri che vi ho dati per capire quanto si possa creare ricchezza nel nostro paese espandendo le filiere produttive internazionalizzare non vuol dire solo esportare esportare lo facevamo anche prima internazionalizzare significa riorganizzare il proprio sistema produttivo senza tenere contro dei confini oggi si vogliono ottenere dei risultati in termini ambientali ma voi pensate di fare qualcosa in termini ambientali mantenendo nelle vostre teste le bandiere nazionali i confini ma di cosa stiamo parlando? è pura illusione questa cioè la natura è una sola e se noi interpretiamo la natura in termini nazionalistici o con interessi particolari faremo sciovinismo ma non facciamo sicuramente il bene dell'ambiente dunque non esiste sostenibilità finché esiste la cartina politica e non la cartina fisica nelle vostre teste noi abbiamo deciso di abolire la cartina politica dalle nostre teste beh ci pensa qualcun altro poi comunque a farcela sentire e a riguardo siamo riusciti ad ottenere il carbon neutral cioè la neutralità di carbonio facendo una cosa molto semplice adesso forse a voi non interessa la neutralità di carbonio c'è a chi interessa a chi non interessa ma oggi è un tema dominante oggi un'impresa non può non offrire un sistema produttivo che abbia impatto virtuoso se no non si va avanti non si va da nessuna parte e ci siamo riusciti proprio internazionalizzandoci cioè dicendo bene andiamo nel luogo ideale al mondo per coltivare gli alberi l'albero è la macchina migliore per assorbire la CO2 assorbendo la CO2 produce legna rami foglie dunque è la soluzione l'uovo di colombo e in Brasile dove ci sono le condizioni ideali abbiamo piantato un milione e mezzo di alberi che coltiviamo è impegnativo coltivare una foresta non è solo metterli giù e poi lasciarli lì perché bisogna tagliarli quando hanno 7-8 anni venderli bisogna ripiantarli e così via dunque anche questo è un modello che volevamo offrirvi di come sia possibile anche un'azienda di medie dimensioni come la nostra realizzare degli obiettivi per i quali moltissimi si pongono le scadenze del 2050 al 2070 ma lavorando in maniera molto semplice e questo bilancio del carbonio lo facciamo attraverso l'ausilio della DNV che ci calcola attraverso dei calcoli quanto emettiamo e quanto assorbe questa foresta insomma se a voi farà piacere approfondire di più i nostri temi noi siamo a vostra disposizione quello che volevamo trasmettervi è innanzitutto un grande entusiasmo per il fatto che ogni giorno 8 miliardi e 200 milioni di persone ogni 4 ore hanno appetito e dunque noi italiani siamo in pole position per servirli pensate qualcuno parla di Italian Sounding sicuramente quando si dice la parola Italian Sounding molti di voi hanno una reazione l'Italian Sounding l'Italian Sounding è un'attività assolutamente lecita un po' come noi chiamiamo i Würstel hamburger gli hamburger l'Italian Sounding è l'attività di chi all'estero definisce con terminologie italiane richiami italiani senza contraffazioni ovviamente un prodotto ed è la nostra fortuna perché si ricordano di noi dunque l'Italian Sounding cos'è questa cosa provocatoria vorrei proprio che mi deste una risposta cos'è è una vergogna secondo la vulgata secondo il pensiero dominante il pensiero unico l'Italian Sounding è una cosa gravissima una vergogna allora potremmo dire che è veramente una vergogna ma è una vergogna per noi perché significa che ci sono 100 miliardi vengono strimati 100 miliardi di domanda di prodotti di stile italiano già in atto domanda già in atto che noi non vogliamo servire che noi non vogliamo soddisfare che noi autolesionisticamente non riusciamo ad intercettare perché perché limitiamo le nostre produzioni soltanto alla materia prima che è realizzabile nel nostro territorio bellissimo ma limitatissimo e così lasciamo tutta questa infinita domanda al resto del mondo ai nostri concorrenti del resto del mondo anche questo è un punto di vista che è totalmente inverso a quello che è la vulgata dominante così ci piace proprio ci piace usare questa occasione anche per lanciare queste provocazioni di idee che ci sembra possano essere solo utili ci possono essere utili ad adottare dei modelli proprio in un momento in cui si parla di sovranismo si parla di made in Italy con una visione molto restrittiva voi capite che il sovranismo al di là di ogni altra considerazione è impossibile se non c'è l'autosufficienza come fa a esserci sovranità senza indipendenza è impossibile no? allora anziché accarezzare delle idee che sono impossibili oltre che controproducenti ci sembra che sarebbe invece da guardare verso il futuro come una incredibile opportunità di sviluppare la nostra capacità di trasformazione soprattutto e senza limitarla ai prodotti del territorio che sono limitati i quali hanno tutto l'interesse ad avere un'espansione internazionale perché come vi abbiamo raccontato prima noi abbiamo aperto 25 negozi in Repubblica Ceca unica catena praticamente di un produttore italiano europeo un'unica catena di retail dove vendiamo prodotti italiani quando esportiamo in 60 paesi esportiamo l'asiago esportiamo il provolone o al padana esportiamo anche i prodotti del nostro territorio dunque capite come come la realtà sia completamente controintuitiva e soprattutto la narrazione questo è il termine che si usa di solito la narrazione che oggi vige è dominante è una narrazione autolesionistica e veramente fuorviante bene i temi più importanti li abbiamo visti abbiamo voluto sintetizzare con il made in future il nostro uno slogan per dire che ci piacerebbe che fossimo tutti proiettati al futuro specialmente in questi momenti in cui abbiamo capito che arriverà Red Rational per tutta una serie di cose che non stanno in piedi per tutta una serie di sbilanci che non possono essere continuamente portati avanti a partire dalla concentrazione di bestiame ci piacerebbe più guardare al futuro con fiducia e consapevoli delle nostre straordinarie capacità e opportunità piuttosto che stare a rincorrere protezionismi forme di chiusura che purtroppo alla fine non fanno altro che lasciare spazio a tutti i grandi concorrenti internazionali che sicuramente non stanno lì ad aspettarci insomma grazie per l'attenzione se sono altre domande non so se c'è qualche domanda ah finiamo col macchinario se ritorniamo indietro no questo è bellissimo allora voi capite noi siamo fuori dalle DOP siamo usciti dalle DOP che sono dei sistemi fantastici sono dei veramente abbiamo dei colleghi fantastici dentro le DOP ma noi non siamo DOP preferiamo la libertà avete visto che il nostro motto è freedom will feed the planet ed è sempre più chiaro addirittura in questi giorni avete visto che senza la libertà non partono le navi da Odessa per cui il pianeta non si nutre no siamo agli estremi però in generale questo impianto come tutte le cose che noi facciamo fuori dalle DOP le facciamo in assoluta libertà e responsabilità nel senso che noi possiamo inventare qualsiasi cosa per esempio caglio vegetale caglio vegetale oppure forma quadrata forma quadrata ci sono per esempio alcuni clienti nostri che fanno le scaglie tipo non so McDonald's per fare le Caesar salad e così via vanno meglio con la forma quadrata perché non la facciamo quadrata perché la forma è rotonda perché laboratorio qui perché per lo stesso motivo per cui sono rotonde le ruote della macchina e non sono quadrate le ruote della macchina perché per muovere una cosa da 40 kg capite che se è rotonda va meglio ma questo impianto è fantastico perché elimina tutti i corridoi cioè il formaggio è tutto compattato vengono eliminati i corridoi ci sono solo due piccolissimi corridoi all'interno di questa enorme stanzone con tutti questi scaffali sono 200.000 forme oggi stanno arrivando a 250.000 con l'ampliamento e se verrete a visitarlo veramente saremo molto felici una volta di organizzare una visita e questi questi bancali di 32 formi vengono portati fuori da questo stanzone da dei dei vettori delle macchinette come che li portano a quei 4 antropomorfi che li spazzolano li girano e fanno tutta la tolettatura che normalmente invece si fa in mezzo ai corridoi questo significa dimezzare il volume per cui dimezzare i costi energetici poi tenere vicino il formaggio come se fossero dei gattini tenuti vicini d'inverno l'anno scorso avevamo problemi ad avere il gas perché era fallita la società di gestione e non abbiamo nemmeno acceso il riscaldamento e tenevamo 14-15 gradi comunque perché il formaggio fermenta e si tiene caldo cioè compattare questa massa ha un risultato incredibile e poi ogni giorno ci vediamo passare sotto gli occhi 20-25 mila forme che vanno in rivoltatura per cui questo è uno dei dei momenti in cui in un settore si fanno le rivoluzioni in cui cambia completamente il paradigma il risultato ovviamente abbiamo due persone due tecnici specializzati che gestiscono ogni turno il secondo turno lo gestisce un tecnico specializzato soltanto da solo 200 mila forme voi direte eh ma allora l'occupazione no ma signori non c'è già da un pezzo il formaggio è girato dalle macchine solo che sono macchine molto più rudimentali e in mezzo ai corridoi capite e poi comunque chi di voi pensasse che qualcuno fosse disponibile a mano di girare 20 mila forme se volete provare abbiamo tenuto un magazzino vecchio solo per provare cosa significa girare a mano il formaggio da 40 kg dunque anche qui fantastico la tecnologia ci permette di fare cose nuove prodotto più buono più buono perché matura meglio condizioni più stabili di temperatura umidità costa meno cosa è sta vergogna di riuscire a realizzare una cosa che costa meno perché siamo stati intelligenti dovrebbe essere l'ambizione di un imprenditore cosa è sta roba che è bravo solo quello che vende caro no signori è bravo quello che fa la roba buona e che riesce a organizzare dei processi produttivi efficienti e così servire il mondo perché se noi abbiamo un prodotto che costa 8 euro al chilo 10 euro al chilo il nostro mercato potenziale sono 500 milioni di persone se costa 9 euro al chilo a parità di bontà o addirittura più buono il mercato potenziale sono 4 miliardi di persone mi sembra ovvio per cui un imprenditore deve essere orgoglioso quando riesce a realizzare una cosa questo lo dico perché non l'abbiamo fatto noi l'ha fatto come vi ripeto l'ingegner Fedi che è un italianissimo di Prato tutto autosufficiente sotto l'aspetto energetico con 800 kilowatt di pannelli solari che stiamo completando di installare insomma anche qui cose bellissime stupende prodotti sempre più buoni sempre più efficienti più sani risparmio energetico salubrità grammo ravi a zero flatossine filiera ecosostenibile nitrati cinque volte di meno del limite comunitario tantissime belle cose che si possono fare e che hanno cambiato il nostro modo di fare impresa e l'hanno reso più entusiasmante e spero che questo entusiasmo siamo riusciti a trasmetterlo a trasmetterlo un po' anche a voi oggi insomma ecco grazie e della pazienza grazie 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 grazie